Ciao amici dell'informazione online, sapete che è molto tradizione farvi il video, siamo nella fanzone, bene bene, atmosfera bellissima, siamo contenti, speriamo bene, le Ferrari si sono ben comportate, sapete che questo fine settimana saremo tutti un po' tifosi. Comunque ci aggiorniamo domani e sempre viva il motosport! Un abbraccio a tutti! Un abbraccio a tutti!